Andrea Prandini, 34 anni compiuti, sono residente a Salara e sono sposato, ho due bambini di 4 e 6 anni. Come lavoro sono farmacista e sono impegnato in politica dal 2004 come sindaco del mio comune. Mi presento alle elezioni della Camera dei Deputati nelle liste dell'Udc. Il Polesine soffre terribilmente di avere un metabolismo lento, un metabolismo lento nelle scelte decisionali, quindi il mio impegno se venisse eletto per il Polesine sarebbe nel raccogliere quelle che sono le cose più importanti strategiche per il territorio e portarle avanti di concerto con le forze sociali. Allora, le 5 cose di cui ha veramente bisogno l'Italia. In primo, finanze pubbliche che siano sane. Finanze pubbliche non sane non può essere un peso che trasferiamo sulle generazioni future e sulle ditte che chiudono perché lo Stato non le riesce a pagare. Secondo punto, lotta all'evasione. Pagare meno tasse è possibile solamente se le pagano tutti. Terzo punto, uno Stato che sia più snello, che pesi meno, ma questo lo si può fare solamente valorizzando i dipendenti pubblici e non mortificandoli. Ultimi due punti, ma non meno importanti, uno Stato a misura di famiglia perché se l'Italia non torna a fare figli l'Italia non può pensare di crescere. E ultimo punto, una nuova legge elettorale perché la prossima volta gli eletti possano essere veramente scelti dagli elettori e non nominati dalle segreterie di partito. La promessa è semplice ed è scritta nero su bianco, si chiama Agenda Monti. È un documento che nella disarmante semplicità con cui è scritto mette in evidenza quelle che sono le fragilità e i punti di forza della nostra Italia. Indubbiamente la promessa che faccio è quello di averlo sempre presente e come sindaco sono abituato a metterci la faccia e quindi su questo voglio essere valutato dagli elettori.